Sono già anche afficcato per fattere i microfasciati a Parisa Ma io non ho detto che direi se non l'idea è niente proprio Però no, sai che sto avendo il dubbio che siamo noi con le 6 Che tenerebbe giù un problema, anzi Hai capito? Perché ho già notato che forse la 6 è una grande bomba dappertutto Ma forse non compagno Perché sono tanti con loro Si comportano diversamente come l'anteriore Non può fare che tenere i problemi russi perché è dritto E i problemi non vaga a te Perché come si fa franaggio l'anteriore E' brutto salito ultimamente dentro da diretti E' brutto salito ultimamente dentro da diretti E' brutto salito ultimamente dentro da diretti Grazie a tutti. 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 Bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.